Sono tornato cinque minuti or sono dalla messa vespertina della domenica e oggi la Chiesa cattolica celebra la Trinità di Dio. Tanto per mostrarvi fino a che punto io sia in linea sempre con i miei gesti, con i gesti compiuti dalla liturgia cattolica, oggi ho pubblicato un video piuttosto esteso che dura, ha durato esattamente tre ore, senza farlo apposta, io sono stato nel segno della Divina Trinità, io che ho tutti gli indizi per andare dai sacerdoti, come avevo le intenzioni alla fine della messa, e dire a Don Angelo Centemeri, che l'aveva celebrata, Monsignore, io mi chiamo Amodeo Romano, ma questo non è un nome del mio personaggio, è il nome del Divino Ente che lo anima, A.R. Divino Ente, io sono ardente, ma io sono romano, nella mia mano io sono ro e sono un ro e sono vietato alla vostra conoscenza, io sono il ro vedo ardente che si è presentato sul monte Oreb a Mosè, non certo io personaggio, ma l'essenza che è in me e che da grande tempo qui in Saronno sta esprimendo la verità di Dio e udite le campane che suonano celebrando in un certo senso con un divino e trascendente accompagnamento le verità che io vi dico. Ma per poterle riconoscere vediamo un po' qual è stata la liturgia di oggi attraverso soprattutto la prima lettura e il Vangelo. Nella prima lettura si parla dell'apparizione fatta a Mosè sul monte Oreb e io vi leggo il testo di questo brano che è tratto dal libro dell'Esodo. Mentre Mosè stava pascolando il greggio di Ietro, caratteristico è questo, il padre acquisito, non quello reale di Mosè, il padre acquisito, qui come padre, si chiamava Ietro. Sarà quel padre Ietro, quel Pietro, che in un certo senso gli dirà come operare. Perché un giorno dirà a Mosè se tu vuoi regolare come si deve questa conduzione del popolo di Dio, dividilo in gruppi e delega in modo tale che si possa comandare attraverso questa suddivisione di compiti, avendo creato una gerarchia di potere. Questo è il consiglio che il padre Ietro, il Pietro di Mosè, diede a Mosè. Ebbene, qui, mentre Mosè stava pascolando il greggio di Ietro, suo suocero, sacerdote di Madian, condusse il bestiame oltre il deserto e arrivò al monte di Dio, l'Oreb. Oreb, se lo voi lo trascendete, denuncia chiaramente Bi e Ro, ossia un duo esiste in Ro. e questo è il segreto del monte di Dio, l'Oreb, oppure il re Bi, il re nel suo essere un duo divino, di padre e spirito santo. Arrivò al monte di Dio, l'Oreb, l'angelo del Signore, gli apparve in una fiamma di fuoco dal mezzo di un roveto. Egli guardò, ed ecco, il roveto ardeva per il fuoco, ma quel roveto non si consumava. Mosè pensò, voglio avvicinarmi e osservare questo grande spettacolo, perché il roveto non brucia? Il Signore vide che si era avvicinato per guardare. Dio gridò a lui dal roveto, Mosè, Mosè, rispose, eccomi, riprese, non avvicinarti oltre, togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è suolo santo, e disse, io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Mosè allora si coprì il volto, perché aveva paura di guardare verso Dio. Il Signore disse, ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a causa dei suoi sovrintendenti, conosco le sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo dal potere dell'Egitto e per farlo salire da quella terra verso una terra bella e spaziosa, verso una terra dove scorrono latte e miele, verso il luogo dove si trovano il Cananeo, l'Ittita, l'Amorreo, il Perizzita, l'Eveo, il Gebuseo. Ecco, il grido degli israeliti è arrivato fino a me e io sento e io stesso ho visto come gli egiziani li opprimono. Perciò va, io ti mando dal Faraone, fa uscire dall'Egitto il mio popolo, gli israeliti. Mosè disse a Dio, chi sono io per andare dal Faraone e far uscire gli israeliti dall'Egitto? Rispose, io sarò con te, questo sarà per te il segno che io ti ho mandato. Quando tu avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, servirete Dio su questo monte. Mosè disse a Dio, ecco, io vado dagli israeliti e dico loro, il Dio dei vostri padri mi ha mandato a voi. Mi diranno, qual è il suo nome? E io cosa risponderò a loro? Dio disse a Mosè, io sono colui che sono. E aggiunse, così dirai agli israeliti, io sono, mi ha mandato a voi. Dio disse ancora a Mosè, direi agli israeliti, Yahweh, e qui nel testo c'è il tetragramma di Yahweh, I H V H, il tetragramma che vale 26, e che è tradotto il Signore, proprio nella concezione di non nominare il nome di Dio in vano. E quindi il nome di Yahweh è tradotto il Signore, è tradotto in altri modi, ma non è nominato proprio nel suo nome Yahweh. Yahweh, Dio dei vostri padri, Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe mi ha mandato a voi. Questo è il mio nome, per sempre. Questo è il titolo con cui sarò ricordato di generazione in generazione. Ecco, Yah è la I e la A. La I vale 9, la A vale 1, Yah è 10. Il Dio che opera in questo nostro contesto del mondo reale, opera con il 10. Quando lo si va a osservare dentro il termine del tetragramma di Yahweh, la prima parola, la Y che suona I, vale 10. Quindi sia il valore fondamentale di un 10. Ma per andare al nucleo fondamentale della liturgia di oggi, bisogna andare a leggere il Vangelo di Gesù di oggi. E il Vangelo che la liturgia di oggi cita è il Vangelo secondo Giovanni. Ecco qual è questo Vangelo. In quel tempo, il Signore Gesù disse ai suoi discepoli, molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della Verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio, per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Ecco, che cosa è questo annuncio? In sostanza è quello che ho annunciato nel video che avevo fatto questa mattina, che ho postato proprio oggi, un video imponente di tre ore, in cui io spiego a un Andrew, che è un interlocutore intelligente, che non sa chi deve considerare Dio, e al quale io ho detto che ognuno di noi è comandato da Dio a ricreare in se stesso il volto di Dio, il nome di Dio, ossia quel valore fondamentale che traina tutte le intenzioni di una vita personale, nella sua guida e nella egemonia di questo giudizio che è un giudizio assolutamente valido nel singolare. Io sono chi sono è proprio l'essenza di un io sono che è il fondamento di ogni io sono. E ogni io sono, quando elabora e comprende e capisce e elegge dentro se stesso il Dio, il comandante, il valore egemone della sua vita, anche se non lo chiama Dio, perché lo vede come un amore per la scienza, un amore per la filosofia, un amore per lo sport, un amore per questo, quello o quell'altro, è quell'amore, il suo dio elettivo, quello che a partire dalla vita reale ogni uomo ha eletto, ossia ha scelto dentro di sé. Perché la Trinità di Dio, che appartiene alle tre qualità generali espresse nella vita umana, che sono quelle di un padre e un figlio, tra i quali esiste una figura intermediaria, lo Spirito Santo di una mamma, che è il vero arbitro tra l'amore del padre e l'amore del figlio, questa mamma generale dell'esistenza, non si esprime nella concretezza della sua figura umana, che ha assunto poi il volto reale della mamma di Gesù, ma attraverso il consorte dello Spirito Santo, di Dio, che è l'amore, che è l'amore della mamma, che la mamma ha per il figlio e che ha per il suo sposo. Ecco, l'amore dello Spirito Santo incarna la santa famiglia che è alla base della vita reale di ogni figlio, perché ogni figlio deve la sua esistenza al padre e alla madre e nel padre ha il conduttore dell'iniziativa della vita, nella mamma ha la sede della vita, ha quella consistenza dell'ovulo nel quale comincia a sbocciare, si forma fino a essere integra e intera, prima di venire alla luce come una creatura perfettamente fatta che ha inizio nella sua vita reale e indipendente nel tempo, dopo che è stato tagliato quel cordone ombelicale che legava la vita del figlio ancora alla vita della mamma. La mamma, rispetto al bambino, ha questo compito di averlo nutrito di per sé, attraverso questo cordone ombelicale che lega la parte creatrice alla parte creata con molto più di quanto lo lega il padre. Il padre ha espresso l'iniziativa creativa, ma la mamma è la sede dello Spirito Santo della vita e in una religione in cui le donne sono state messe sempre in sottordine per quest'aspetto muliebre che esistono, che esiste e che sono la sintesi di quella verità dello Spirito Santo che si lega a Dio come la figura della Madonna si è legata al suo compagno trascendendo il suo compagno. Ella non ha bisogno del suo compagno reale perché è la figura incarnata proprio del creatore reale della vita, nella figura reale che ogni mamma ha nei confronti del suo figlio, ma proprio per dare l'evidenza che questa creazione non è dovuta all'attività di un reale compagno ma di un compagno trascendente, abbiamo due figure di questo tipo nel racconto trascendente che Dio ha dato all'uomo attraverso il Vecchio Testamento e il Nuovo Testamento. Nel Vecchio Testamento esiste nel capitolo 38 di Genesi la figura di Tamar, la quale avendo non più il compagno Er e il suo fratello che prese il suo posto dopo che Er morì e che si chiamava Onan, non avendo più questo congiunto R-O, questo Ro, non avendolo più vivo ricorre alla vita che esisteva ancora nel padre reale di R e O e grazie alla sua vita a un compagno trascendente che è il padre dei possibili padri che sarebbero stati i suoi figli se fossero vissuti ma non c'erano, non c'erano più e il padre con cui Tamar si lega è la prefigurazione della Madonna che questa volta prende l'iniziativa e forza la mano al padre affinché dia eredità al compagno e al fratello del suo compagno che ella non ha più e da questa fecondazione nascono due gemelli da uno dei quali verrà poi Gesù è descritto in Genesi 38 e la generazione di Gesù è esattamente la trentottesima a partire da questo padre vero che è intrigato dalla sua nuora e diventa senza volerlo forzato dalla mamma il padre trascendente di una generazione in cui la trentottesima sarà quella di Gesù ecco in che modo si trascende Gesù proprio nell'Antico Testamento e si trascende la mamma proprio come la figura che è lo Spirito Santo che interviene affinché venga fuori una generazione divina ossia trascendente un creatore che non c'è ma che c'è ed è vivo ed è veramente quello vero quando è quello di un Dio padre padre di ogni possibile padre ecco questa condizione è proprio quella condizione di quello Spirito Santo che trascende dal padre e dal figlio perché si mette nei confronti di quella donna che trascende il padre nell'amore che ha per il padre e trascende il figlio per l'amore che ha per il figlio e padre e figlio sono legati nell'amore attraverso questa figura che umanamente è poi rappresentata da una donna reale la Trinità di Dio ha queste tre parti due come le parti genitrici una come la parte che è stata generata da queste due fondamentali parti e poiché questa è la modalità con cui avanza la vita reale nel nostro mondo reale ecco che Dio che si vuole presentare come un creatore reale assume quella Trinità che consiste nella Sacra Famiglia in cui esiste un padre virtuale in Giuseppe una madre reale in Maria e un figlio reale in Gesù il cui padre vero non è tanto Giuseppe ma è il padre di ogni uomo è quello Spirito Santo di Dio che è incarnato poi nel legame totale e assoluto con Maria sede dello Spirito Santo ecco allora cosa è questa condizione che è espressa nel Vangelo di oggi secondo cui Gesù dice io non vi ho detto tutto molte cose ho ancora da dirvi ma per il momento non siete capaci di portarne il peso perché? forse perché l'uomo di quel tempo era deficiente? in un certo senso mancava sì era deficitario nei confronti di una vera conoscenza della realtà che è una entità complessa che in sostanza è sempre 0 ma si mostra diversa da 0 perché si mostra come la crescita più 1 grazie alla premessa di una decrescita di meno 1 e quando questi due valori uguali e distinti coesistono in sostanza c'è uno 0 che esiste e quando uno 0 esiste è proprio un Dio che esiste che pur essendo 0 ha tutta la capacità di esistere pur essendo niente di reale Dio è proprio questo è quella idea di Dio che emerge da chi non ha la forza per avere questa idea eppure l'uomo che non ha questa forza è messo in condizione di eleggere in sé questa forza tanto che ogni uomo di questo mondo possiede questo valore elettivo del bene secondo lui della opportunità che vale la pena di seguire secondo lui che è proprio il suo valore morale è il Dio che comanda e che vuole che comandi la sua vita ecco tutto questo io lo avevo spiegato questa mattina ma è attraverso la liturgia che tutto questo messaggio che io ho dato in forma di filosofia in forma di ragione proprio totale e ricondotta addirittura a una formulazione matematica quindi una conoscenza veramente definita fino ad essere formulata da una formula vera e propria matematica questa conoscenza io ho potuto darla perché questa conoscenza che doveva essere annunciata nel mondo è stata annunciata è quella che avete udito da me e che io sono l'unico oggi che la dice ma questa conoscenza è ancora vietata si tratta di un ro che è ancora vietato non deve ancora essere conosciuto ma è un ro veto vietato è il veto di dare retta a un ro un ro proprio come una proibizione assoluta la chiesa stessa la chiesa stessa oggi non la deve seguire ancora per questo è accaduta la roba assolutamente incomprensibile di una chiesa che in un santo padre il papa Giovanni Paolo II provoca ogni filosofo a trovare un nuovo percorso ragionevole verso Gesù Cristo e c'è un filosofo che si fa l'atore di questo percorso è straordinariamente incomprensibile che poi la chiesa una volta che questo percorso è pronto per essere accolto e che si esprime attraverso il ro di un romano per mano di questo ro si trova ad avere questo ro proprio un veto totale, assoluto a essere preso in considerazione proprio da quei santi padri che l'avevano chiesto eppure è ardente di fede è ardente di verità è un divino ente in AR è ardente questo veto è questo che trasfigura nella realtà di un veto dato a questa verità che è una verità legata a un ente divino che non si può vedere che non si deve ancora vedere perché nel disegno di Dio probabilmente ancora il tempo per capire perché la chiesa cattolica ne porti il peso non è ancora giunto disse Gesù molte cose ho ancora da dirvi ma per il momento non siete capaci di portarne il peso quando verrà Lui lo spirito della verità ossia la verità in se stessa la verità che deve soltanto trovare chi la annunci questo è lo spirito della verità non è una condizione personale di uno che dica io sono la verità come la disse Gesù io sono la via la verità e la vita disse Gesù in me non accade questo io non vi dico che io sono la via la verità e la vita ma vi dico che soltanto in me si è presentata la verità in sé come la via che porta al padre con una tale sicurezza da trasformarsi e presentarsi addirittura attraverso una formulazione matematica ma a quanto pare la chiesa cattolica non è ancora in grado nel disegno di Dio di portarne il peso e proprio perché la stessa verità incontri lo stesso vieto di essere accolta che ebbe Gesù da Caifa ma proprio in presenza di un Dio uno e trino ecco che questa verità quando si è presentata in me non si è trovata di fronte solo a un veto ma a tre veti il primo fu espresso nel 99 il secondo fu espresso nel 2005 il terzo veto è stato espresso lo scorso anno e nonostante 193 giorni di digiuno in cui ebbi fame ma non mi deste da mangiare ebbi anche sete e non mi deste da bere questo doveva accadere perché se il frutto non marcisce e non muore non può portare frutto e quindi doveva esistere questa condanna doveva esistere questo veto espresso proprio da una fede di seguaci che secondo il disegno di dio deve essere formato sempre da persone e personaggi dalla testa assai assai dura e proprio in virtù di quella fede finalmente raggiunta non sono più capaci di interpretarla in un modo nuovo quando arriva il momento di poterlo fare perché uno spirito santo della verità ha portato in avanti la concezione piuttosto retrograda che esisteva a quel livello di interpretazione di dio ma fino a quando è questo il disegno di dio siamo ancora a livello di quel veto di quel ro veto nonostante che sia un ar divino ente esistente in questo ar che vi parla e che grazie alla sua opera di puro e semplice servitore avete di prima mano la conoscenza di questo soprattutto grandioso mistero di un dio uno e trino secondo l'omelia di don angelo o monsignor angelo centemeri che ha recitato l'omelia a termine della lettura di questo vangelo che il dio sia uno e trino è un grande mistero non si comprende eppure si comprende benissimo quando lo si arrivi a formularlo proprio in questo modo terra terra dio è uno quando lo interpretiamo a livello di ciclo legato a un padre e a un figlio quindi a un ciclo vitale il padre è la decina il figlio è l'unità ma quando noi abbiamo soltanto l'unità essa si presenta come zero uno il padre è trascendente ma quando vogliamo esprimere il padre trascendente del figlio zero uno dobbiamo trascendere tutti i valori che abbiamo espresso come zero uno e togliere lo zero e metterci uno nelle decine togliere l'unità che esisteva come zero uno e mettere al posto di uno uno zero e allora zero uno si trascende in dieci ma poiché abbiamo un dio che ha la potenza trina ecco che esiste come un dieci al cubo ed è il prodotto della relazione che esiste tra tre dieci dieci per dieci per dieci esprime la trinità di dio eccola è un tutt'uno perché è un volume unico che vale mille unità millesime ma questa formulazione è ancora troppo lontana dalla possibilità della chiesa cattolica di portarne il peso perché è condotta dagli stessi valori che esistevano duemila anni or sono doveva arrivare uno spirito santo paraclito che sulla nuova conoscenza della verità la presentasse in una nuova parabola ossia in una nuova esemplificazione che più che parabola e esemplificazione fosse proprio una formula e allora la verità di dio che è uno e trino è rappresentabile da dieci elevato zero ossia un puro ente in atto il padre in puro essere in potenza perché dieci elevato zero è un puro essere in potenza per entrare in atto dieci deve essere in potenza di uno e allora è dieci come il padre che è in atto e il figlio che è in atto è come dieci elevato a meno uno ecco allora che dieci elevato a zero uguale dieci elevato a uno per dieci elevato a meno uno è la trinità in cui nel primo membro c'è lo spirito santo poggiato sulla realtà dieci del padre e sulla stessa realtà del padre esiste il padre in sé come dieci elevato a uno e il padre nel figlio come dieci elevato a meno uno ecco io vi ho formulato questa verità è arrivato in me quello spirito santo paraclito che doveva dirvi e spiegarvi queste cose e che se anche le ho ripetute brevemente sinteticamente in questo video fatto questa sera avevo già spiegato tutto con molti dettagli senza volerlo proprio questa mattina in un video divenuto lunghissimo e che proprio oggi nel giorno che celebra la trinità di dio è venuto lungo esattamente tre ore capite voi tutto il segno che è nascosto in ciò che vi sto dicendo io sono soltanto il latore personaggio latore di una verità che mi trascende il nome che voi credete che sia il nome del mio personaggio non è legato al personaggio il nome dato apparentemente da mio padre e da mia madre al mio personaggio virtualmente è stato il nome che ha assunto il dio Yahweh in quel valore in quel nome segreto a 42 cifre che era atteso dalla cabala ebraica è un nome che non è il nome del personaggio anche se a voi sembri che io personaggio sia Romano Antonio Anna Paolo Torquato Amodeo questo nome non è il mio non è il nome del personaggio è il nome della verità dello spirito santo paraclito che esiste in me è un nome superiore alla mia persona non è il nome della mia persona e per attribuzione straordinaria fattavi da mio padre e da mia madre quando mi hanno battezzato con la scelta apparente del mio nome hanno espresso quel nome segreto di dio che era atteso secondo le attese della cabala ebraica per la quale ripeto doveva avere 42 cifre perché dio nel suo valore totale opera in sette giorni il cui lavoro soltanto è dato da 6 e combinare l'opera intera con il lavoro soltanto significa moltiplicare 6 per 7 e nel valore 42 trovare tutto il valore il mio nome non quello del personaggio ma quello della verità che sta dentro ha 42 cifre ma in esse le cifre al lavoro sono 6 per 6 sono divise in 6 nomi e mediamente ce ne sono 6 in ogni nome tanto che 36 è tutto il lavoro in 6 giorni nei 6 nomi ma poi ci sono i 6 sabati e quando si aggiungono anche i 6 sabati ossia i 6 riposi della voce alla fine di ciascuno di questi 6 nomi 36 più 6 42 è il totale che vi deriva da romano antonio anna paolo torquato amodeo quando però considerate i valori che sono numeri in questo nome perché questo nome trascende tutti i numeri che sono i numeri di ordine delle singole lettere nel valore intero dell'alfabeto italiano di 21 cifre che è quello che rimanda a mio padre nato 7 7 7 ecco quando voi considerate tutto ciò e vi accorgete che il primo nome vale 66 e sono 2 6 e allora l'essenza del primo nome sta nel terzo che vale 2 6 come 26 e non 66 perché l'essenza di 66 è che sono 2 6 26 è l'essenza espressa dal terzo nome Anna ed è l'essenza del primo è la stessa essenza del primo nel terzo ma visto che il secondo media il primo e il terzo deve accadere che se il primo è il terzo allora il secondo deve essere il triplo del terzo perché posto primo il primo e il nome di dio quelle Yahweh che vale 26 nel terzo nome Anna ecco che andando al nome di dio che deve essere uno e lo è in Anna uguale 26 e deve essere trino deve essere 26 più 26 più 26 uguale 78 ed è quanto vale esattamente Antonio il secondo nome ecco vedete il primo il secondo e il terzo sono il primo che è il terzo e il secondo che è tre volte il terzo tanto che è un nome straordinario straordinario proprio perché è un nome divino quando si prendono tutti e cinque i nomi Romano Antonio Anna Paolo Torquato e lì si somma nei valori trascendenti le lettere che sono i valori numerici abbiamo che il valore di tutti e cinque è 333 più 1 ossia indica l'unità di Dio più la Trinità in una Trinità di generarchie 10 come il 3 più il 30 più il 300 proprio nelle tre gerarchie che sono riconducibili alla cabala ebraica che parlava e scriveva la Bibbia secondo questi tre valori gerarchici in cui c'era il valore medio che era 10 20 30 40 50 60 70 80 90 poi c'era il valore superiore che era dato dai decimi e il valore superiore che era dato dai decupli ecco 30 più il decimo più il decuplo è 333 ma nel caso dei miei cinque nomi è 333 più 1 a indicare che sono 333 ma questo nome è 1 e quando gli si aggiunge il nome familiare ossia della famiglia a modello che vale 47 il 334 più 47 porta a 381 che si riconduce non solo a genesi 38 espressa nell'ordine del capitolo 38 del libro 1 381 38 unità in decine come il capitolo e una unità come il libro 1 ma a questo valore come si arriva in un modo assolutamente straordinario proprio attraverso un nome che per tre volte è 113 113 indica il valore assoluto 100 in quel tratto 13 che è alla base di Dio e è alla base di Yahweh perché un tratto 13 vale 13 in un verso e 13 nell'altro vale 26 e quindi è l'espressione base di Yahweh 26 nel valore assoluto 100 ma questo 113 nel mio caso esiste tre volte è trino perché mentre esiste in romano amodeo 66 più 47 esiste interamente nel quinto nome torquato che da solo vale 113 e esiste in quella straordinaria lettura che si fa di solito quando un intero nome si considera solo costruito sulle prime lettere romano Antonio Anna Paolo Torquato sarebbe R A A P T A ma nel caso di un ente dualistico deve essere valutato nelle prime due lettere di ogni nome e allora romano vale per ro Antonio vale per an Anna vale per an e Paolo vale per pa Torquato vale per to Amo Amo Deo vale per Am e la somma di questi sei valori dualistici è ancora 113 ma vedete in che modo tutto questo è ricondotto a una sola cosa quando sono 42 le cifre 42 cifre significa 42 volte una cifra che è stata messa di fianco come termine di riferimento e quando la aggiungiamo alle cifre che sono contate attraverso una cifra le 42 cifre del nome segreto diventano virtualmente quanto 43 ma se sono espresse in questo modo unitario nel triplo allora 42 per 3 fa 126 vedete l'interezza 100 del 26 come il 13 più 13 quindi quando noi andiamo a valutare interamente il tutto espresso in questo modo scopriamo che le 42 cifre del nome segreto di Dio quando Dio è trino diventano 126 ossia diventano un Dio a livello assoluto 100 ma è sempre unitario e quindi sono sempre 26 volte 1 e dunque sono 27 e dunque è 127 il valore di mezzo che esprime tutto è 127 e che cos'è il 27 è 3 per 3 per 3 che era quel valore che si leggeva 333 nei 5 nomi 3 per 3 per 3 è 27 nel flusso 100 ed è 127 questo è il valore assoluto che accetta di essere visto nella terza parte e deve valere per il triplo nella terza parte ma la terza parte deve essere relativa a una cifra quindi le 127 diventano 126 volte una cifra le 126 le 126 volte una cifra divise per 3 diventano 42 volte una cifra ossia 42 cifre ma nel valore assoluto se noi abbiamo che abbiamo ridotto a un terzo il valore che era 127 per considerarlo bene visto che lo abbiamo ridotto a un terzo dobbiamo valutarlo il triplo il triplo di che cosa? del valore 127 e quando prendiamo 127 e lo esprimiamo nel triplo ossia nella sua trinità 127 più 127 più 127 fa 381 quindi eccolo qui il nome segreto di Dio proprio oggi in cui la liturgia sta parlando del nome di Dio quello noto è Yahweh quello segreto è quello che io vi sto dicendo oggi e che è un 127 che è letto nel terzo delle 126 cifre ma il terzo delle 126 cifre deve esprimere il triplo del 127 e allora se un terzo esprime il triplo vedete è una espressione trascendente quella unità e tutto questo accade nel nome di quel valore di verità che vi è comunicata oggi da questo roveto ardente che è un ro tuttora vietato nel suo essere riconosciuto un amodeo romano divino ente e quando Mosè si vide questo roveto ardente ebbe quella immagine reale di quello che è vero oggi in tutto ciò che state vedendo accadere che riguarda questo personaggio questo valore in un nome amodeo romano divino ente che non è certo il personaggio io non sono nessuno è il valore in me il quale valore spirituale è proprio ancora sottoposto a un veto da parte della chiesa cattolica a essere riconosciuto perché la chiesa cattolica ancora non è in grado di portare il peso di questa verità esamina ancora tutte le cose della fede con la stessa cultura scientifica di base dell'uomo di duemila anni or sono non ha capito nulla dell'opera fatta da dio che a mano a mano ha dato sapienza all'uomo fino a metterlo in condizione di accorgersi che questo mondo reale è un mondo binario esprime una intima contraddizione che non si toglie di mezzo fino a quando un ente divino non è in grado di tenere separate le due singole parti di un meno uno e più uno ma questa tenuta separata a solo il tempo della vita reale finita la vita reale quando finalmente a questa vita si metterà in sequenza la vita uguale e contraria una vita e l'altra vita si annichiliranno l'un l'altra e ogni uomo sarà ricondotto a quel suo puro modo di esistere puramente in potenza di esistere un modo di esistere divino che non avrà bisogno di alcunché per esistere essendo una condizione divina che è oltre quella reale in cui sembra che tutte le cose reali abbiano una forza reale la condizione divina ha una forza divina che la muove ecco noi saremo condotti in questo contesto e lo saremo quando questo spirito santo paraclito che si è presentato in me e che è tuttora sottoposto a un veto del papa che mentre dichiara che bisogna essere disposti al dialogo che bisogna essere disposti alla tolleranza che bisogna mettere in pratica realmente quello che ha detto Gesù con l'amore con la condivisione con la commiserazione di tutti c'è un solo soggetto che ha il sacro santo veto di essere considerato così è proprio chi vi parla nonostante tutto il suo amore per la chiesa nonostante tutto il suo essere nella chiesa umile servitore della chiesa perché esiste questo ro veto perché ancora la chiesa che il signore ha messo in atto oggi non è ancora in grado di sostenere questo peso auguriamoci che presto arrivi questo momento e che questo veto non esista più e che il papa si accorga che non può predicare bene affermando dei valori generali che valgono per tutti e non farli valere solo nei confronti di me che vi dico che non porto niente di mio ma solo una verità che può essere controllata in se stessa e che quindi non è una imposizione è semplicemente una verità che ha di tutto per essere controllata nella sua verità tanto più che il Vaticano ha una bella accademia pontificia delle scienze che ci sono tutte quelle fisiche quelle matematiche ed è in grado di entrare nei dettagli delle verità che dico io perché siano osservate siano verificate e siano trovate esatte come quella verità che salvava ogni cosa che Gesù preannunciò è la verità che udite in me perché quando io vi dico che la vera azione che esiste nella vita non è quel più uno che vedete come l'avanzamento nel tempo espresso in modo unitario ma è il meno uno in quanto azione e azione uguale e contraria che sono coesistenti come una ruota che se un punto avanza da A fino a B che è il suo punto diametralmente opposto ciò non può accadere se simultaneamente il punto B non è ritornato in A non è possibile un'azione senza l'azione uguale contraria di conseguenza visto che questa è la verità quando noi le combiniamo tra di loro come più uno per meno uno il che significa che le consideriamo valide entrambe per quando siano opposte ecco che più uno per meno uno determina che l'azione giusta immediata che risulta da più uno per meno uno è meno uno è una vita che discende dall'alto del futuro e sta andando verso il passato è il movimento dello spirito come Gesù lo descrisse a Nicodemo se tu non vedrai e fino a quando non vedrai la discesa dall'alto non entrerai nel regno dei cieli ecco questa discesa dall'alto